e c'è già il trailer in giro al cinema. E non me l'hai detto? No, te lo faccio... Perché non mi hai contato? Tu mi hai chiamato perché non c'era posto per tutti e due. Guardiamo il trailer del primo film padano. Era tornato per coltivare la terra e per farsi una famiglia. E' un libro che ti ha spuso, Beppi. E' un libro che ti ha spuso, Beppi. E chi è stato lasciato a mettere una proposta? Il suo sogno era un mondo di pace, con la donna che amava. Ma il suo destino l'era segnato. Centinaia di soldati erano pronti a combattere al vostro fianco. Sono che per combattere Mörer, per te. Dai, liate, liate, anche con il mio chignore. Gnari! Si pronuncia a combattere? Eh, scusami. Non è che si può dare mai a un panetto prima? Con fame e abuso. L'eroe che gesta The Nome e del suo popolo. Pronti a Mörer per la libertà. Ambientata nelle rigogliuse terre della Padania, una vincente storia interpretata dai nostri migliori attori. Il Tito. L'Ivo. La Franca. E il Fabio. Improncia a combattere! Improncia a gridare ai nostri nemici che il fel porta via te! Anche la vita! Ma no la nostra libertà! Che la mai! Fabio Vulli. El Coragius. Grazie. Grazie.